Allora, quello che ci sta dicendo Emma è che non c'è un aumento di casi di trombosi dovuti alla vaccinazione. Cioè, guardando i numeri, noi possiamo dire che i casi di trombosi che si sono verificati non sono superiori a quelli che si verificano e si sarebbero verificati comunque nella popolazione da un punto di vista statistico. Quindi questo vaccino non causa direttamente un aumento di casi di trombosi. E' quindi un vaccino sicuro, è un vaccino che protegge dalla malattia grave e quindi usare questo vaccino ha sicuramente più benefici che non rischi. D'altro canto, l'Emma ci ha anche detto che non possono escludere completamente l'associazione tra la vaccinazione e i casi rarissimi che ci sono stati. Ricordiamo che sono veramente rari. Cioè, non sono trombosi genericamente intese, sono delle trombosi a livello...